Musica Vinticinque Guardi la gorra di mille che ha messo un po' in seconda fila in mano Musica 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 E' un'altra volta, ed ecco l'ai capito in carica! Questa batteria è solo una qualificazione, il porteggio sarà valido per la qualificazione. E' un'altra volta, è da parte dei commissari di percorso. Ponte vince questa batteria e si porta 6 punti, 5 punti a barocchiello, 4 punti a 7.